Buongiorno. Le linee guida per una sana alimentazione pubblicate con la revisione del 2018 dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA ex INRAN introducono tra le importanti novità rispetto alle precedenti linee guida un capitolo riguardante la sostenibilità ambientale e socio-economica dal titolo Sostenibilità della dieta tutti possiamo contribuire. Ora in un momento storico slagellato dall'attuale crisi economica, sociale, ambientale, politica e sanitaria a livello globale e probabilmente disorientato anche dal punto di vista etico comportamentale, incontrare pagine scientifiche dedicate alla salute e al benessere individuale e collettivo in funzione di una alimentazione sostenibile intimamente connessa allo stile di vita alimentare, alla corretta produzione agroalimentare, al rispetto dell'ambiente, al contenimento degli sprechi alimentari e all'attenzione alle fasce più deboli e dunque alla sostenibilità in termini anche socio-economici è un privilegio che oggi condividiamo con il dottor Giuseppe Tartaglione che saluto. Buongiorno dottore. Buongiorno prof. Autore di una brillante tesi sul tema la riduzione dello spreco alimentare per una sana alimentazione presentata in occasione del conseguimento con l'ode del Master Unitelma Sapienza in scienza dell'alimentazione e dietetica applicata. La realizzazione di questo seminario di approfondimento è resa possibile grazie al supporto tecnologico ed editoriale digitale di Clio Edu al quale va il nostro personale sincero ringraziamento. Dottor Tartaglione, il termine sostenibilità è evidentemente un contenitore, per la sua ricchezza io lo definirei quasi uno scrigno, all'interno del quale si sviluppano argomenti che attraverso una rivoluzionaria visione culturale vanno in qualche modo a modificare, ampliandolo con un profilo equanime e consapevole, il concetto di sana alimentazione, attraverso una dieta che sia adeguata anche sotto il profilo della sostenibilità. Ma vorrei chiederle, per iniziare, se è possibile avere una definizione di spreco alimentare, di quello che noi definiamo spreco con il termine di spreco alimentare, illustrando magari poi anche le dimensioni del problema che stiamo trattando. Prego. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti e grazie al professore per la presentazione e a Clio Edu, come diceva il prof, per il supporto. Sicuramente il tema degli sprechi è caldo, come diceva il professore. Parto parlando della definizione di sprechi. Quando si parla di sprechi alimentari ci si riferisce a due macro-categorie. La prima è i food losses, ovvero le perdite alimentari.